Let's get out of the way! Let's get out of the way! Forza raga, 8 febbraio 2019 venerdì, guardate un po' dove mi trovo mi trovo nel paradiso del resto nella mia isola vicino al mio amico Dio Sole che solo lui mi può caricare mi può far stare bene ok ragazzi oggi vi farò vedere un warm up, push up variato in movement tutte quattro 3, 2, 1, go 1, 2 3, 4, cambio grip 1, 2 3, 4 cambio grip 2 2 3 4 3 5 5 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 7 7 8 9 6 7 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12